I più fervidi, la specie umana, nell'udire la campana del mortorio, fa gli scongiuri more solito e anche i più fervidi cervelli hanno paura di finire con la vita. Non sanno che non è il cervello che è fervido, ma è la coscienza che detta l'idea che il cervello esegue. E se un'idea è la nostra vita, se questa idea intride ogni nostro giorno e ci accompagna anche di notte e diventa noi, questa idea si sublima in una monoidea che è tanto forte da materializzarsi.